E' tornata la polizia scientifica questa mattina sulla strada di Sandonaci nel luogo in cui è avvenuto lo scontro tra il pregiudicato Cosimo Carrisi accompagnato da Teodoro De Matteis e i fratelli De Fazio. Proprio per Carrisi ieri sera sono scattate le manette dopo essere stato trasportato in caserma. La motivazione è il porto abusivo di un revolver 357 Magnum recuperato sul posto a pochi metri in cui l'auto, non un pick up ma una Fiat Uno e lo scooter sono entrati in collisione ad incastrare il pregiudicato e il ritrovamento di sei cartucce. La dinamica dei fatti sarebbe ancora in fase di accertamento. Secondo quanto raccolto sinora pare che Carrisi e De Matteis inizialmente a bordo di una Fiat Panda bianca e poi con uno scooter siano arrivati alla villa della famiglia De Fazio dalle parti dell'incrocio con la vecchia strada provinciale Brindisi-Sandonaci. Lì Carrisi avrebbe puntato l'arma contro i fratelli De Fazio che avrebbero reagito dopo che il pregiudicato ha premuto il grilletto ma la pistola non ha funzionato. I De Fazio avrebbero quindi inseguito Carrisi e De Matteis a bordo del loro Fiat Uno. Poi lo scontro con De Matteis già arrestato lo scorso ottobre per un'aggressione avvenuta dalle parti del panificio di famiglia Nerione Commenda che si è rotto una gamba. Carrisi fermato dai De Fazio ed arrestato è stato portato in questura dove è stato sottoposto al test stub. Si sarebbe detto estraneo al possesso dell'arma ma gli agenti li avrebbero trovato le sei cartucce in tasca. Sarà ora alla scientifica aggiungere nuovi elementi a quelli raccolti finora dalla squadra mobile di Brindisi.